Progetto culturale La Nostra Isola, ideato da Bruno Mancini. Legge Antonio Mencarini. Bruno Mancini. Berenice e i suoi dilemmi. Uno spunto dalla tragedia Berenice di Jean-Baptiste Racine. M'attende stanotte il mio domani. Mantice e difisarmonica regina, nella valera dove mi invito, ostico a stante, a dare una misura alla mia sete. M'ampare il riguardoso senso di memoria di lei l'altra bugiarda, che andava in altalena. Morbosa perversione, sui miei perdoni inammissibili. Ma accosta, d'ingannatrice residuo lembo, bagheggiato teorema di improbisi gili. Mortificante effimera dolcezza. Divaricata sintesi. Risucchio d'anime. Moltraggia, ludibrio inaccettabile. Polinice, impasto ai cani, ed io sarò d'antico nella sabbia. Modello la visione onirica, e lascio Berenice ai suoi dilemmi. Non canto e non sorrido. Aspetto l'alba sveglia. Non canto e non sorrido. A me sembra. Sì.